bella regà eh cocco scusate ci ho messo un po' aspetta 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 partiamo dal principio fatemi capire un attimo la situa allora intanto vedo che il composto viene stipato nelle apposite utri o urne di creta ce ne sono anche alcune di alluminio a quanto pare bene 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 invitante è quello che ho vomitato io al pronto soccorso l'altro giorno si potremmo chiamarlo uno swamp cocktail umile sempre umile un po' di cacao un po' di nesquix sempre a sentimento anche nei bicchieri vuoti a volte si usa come vedi su alcuni lo usa come decorazione altri lo lascia sul fondo ok dipende se aveva già riempito il bicchiere o no si sta a fare tirami su un bicchiere certo ma sto ovvio si parla del migliore sempre buono sempre buono comunque penso che il colore della canottiera determini anche la la cura che mette all'interno della preparazione oh recles amore mi chazzo quella per i 37 medici c'ho grazie a cuore niente tos oh comunque pelo bianchissimo da maresciallo proprio eh torneino di scopa a coppie in spiaggia si si pumbolo esageratamente allucinogena no non riesco a capire cosa si nasconde dentro alla O3 semplice acqua io non credo non ditemi che sta per insegnare delle monetine mettile eh mettile dentro no tranquillo Eddie missed opportunity assoluto bella sto gran pene vai vai sto gran pene il composto è pericoloso fa paura oh comunque questo lavoro se non altro l'ha portato da bene delle braccia considerevoli almeno entro il bicipito anche avambraccio poi fa il suo quando poi devi andare qui a girare si è fatto le braccia eh comunque Eddie non mi assomiglia a questo tizio basta dark questo è un frullato proteico per dopo la palestra sono tutti in fila che aspettano sono appena usciti da webfit ah bene 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 ok ok la mano va direttamente a contatto con il liquido che poi viene servito a tutte le persone ogni persona il tavolo è putrefatto putrefatto c'è addirittura una monetina di zincoli una moneta da 2 euro questa roba è veramente insana Mammels grazie qua per i 20 medici ti abbraccio forte tra l'altro ti sei perso un cazzo l'hai cominciato ora l'abbraccio qua oh aena certo ovviamente tutto quello che rimane sul tavolo poi viene scupato via con un righello o una squadretta all'interno di un ultimo bicchiere ovviamente che è quello dello chef ovviamente eh Kirfe è una scherzo o è la verità ciò che è scritto that would be my big fat ass stanno per mettere Optimus Prime a.k.a. mio padre su Fortnite calendario grazie al cuore per i 13 mesi fratello grazie al cuore frate mi sa la modura è quella la flame get square per i 9 mesi ci ho grazie cuore carissimo sarebbe bello perché aprirebbe a possibili collaborazioni in future con Konami per Epic Games e sarebbe una meraviglia solo che Konami vediamo un po' ehi ehi ma è cipolla quella no 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 bro 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 what are you up to what are you up to bro dopo la palestra io non bevo questo frullato proteico no no bro è cipolla quella è davvero cipolla bro Mattix grazie cuore per i 12 mesi fratello grazie cuore ciccio no fra eh ma fa bene che lo bevi fra lo stanno bevendo graziano vai a fare in cu vattene affan cu ed er de laia io raga manca qualche metro capi io sono bloccato qua non posso fare altro aia però ma siamo finiti di nuovo a Karachi me lo ricordo questo utensile tecnica colladotissima questa la conoscevo a memoria di buono questa è la roba mia fotonna però perché le sbucciate la della buccia è buonina fai prima alla valle è buonina la buccia vai amidiamo la migdala si è vero la persona che sta cucinando ha un'età compresa esattamente tra 12 e 54 anni andrea grazie qua per il prime gaming grazie qua il fratello vero ci sono i flavors dentro che non sappiamo mai cosa sono un po' di patatine sono volate fuori ma è quello che ok non l'ha messa dentro il cestello ok andiamo a spremere fino all'ultimo infatti ma quanti anni ha questo ti giuro che sono è anche anni questa cosa cioè stavo pensando a tutt'altro l'ho visto e mi sono detto ma quanti anni ha ed è anche tristissimo get on to nothing lui non vorrebbe essere qui una delle patatine purtroppo non verrà fritta alla fine sembra essere caduta dentro c'è un supervisore a sinistra adesso ragazzi dovrebbe essere il senior hi chief sapete no ci sono queste cose quando c'è quello senza esperienza no ok 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 là andiamo ad aggiungere dei flavors comunque abbiamo capito che a caraci vanno forte le patatine fritte un po' di chat masala tra parentesi spice poi un po' di chicken flavored spice qual è l'ultima? no dai ancora un po' del sale ce lo devi mettere andiamo senza hai le ketchup ovviamente il ketchup porca madonna non viene servito a parte ma porco di soprattutto le cazzo di patatine così non le puoi mangiare senza una cazzo di di forchetta o un altro utensile di merda maion nice casciuppe sarsina verde sale chat masala o siamo pronti è la salsina verde del lampredotto xeno bravo quella è mia alba a me oh che pista è la salsina verde della buona a firenze lì al mercato accanto al cinghialozzo mi fai una carezzina al grugno vai a prendere un lampredotto da salsa verde una vaschetta di lampredotto a parte lo si porta a casa dai figlioli dai cittini siamo pronti si è inciampato eh raga basta è tardissimo ma poi ho finito gli spi apriamo il pacchetto aah aah aah